ciao amici benvenuti in questo nuovo video oggi è partita la trebbiatura qui sempre nell'azienda agricola spessichini come vedete c'è la loro class lexion all'opera qui sono vicino a un bellissimo new holland t215s con un carro hanno cominciato da poco siamo a inizio luglio è un buon grano non troppo alto questa dandana e ora vi lascio qualche ripresa della giornata di oggi anche un po ventosa ma spero vi piacerà ciao ragazzi ciao 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 ciao